Alcuni giorni fa ho pubblicato su YouTube il video Tablet per l'Università Linux Edition dove facevo vedere tutti gli sbattimenti che ho dovuto affrontare per far funzionare decentemente la penna del mio Surface con Linux. E uno di voi giustamente mi ha fatto una domanda intelligente. Ciao Morro, spero che tu legga e risponda a questo commento. Ti seguo da un po' perché mi affascina ciò che fai, però resto sempre con un dubbio. Perché uno dovrebbe complicarsi così la vita quando Windows comunque sui miei notebook non ha mai dato problemi? Un utente comune non riuscirebbe a usare nemmeno Ubuntu nel momento in cui qualcosa non funziona. Ma anche ammettendo che funzioni tutto subito si sente la mancanza di tutte le applicazioni compatibili con Windows. Sì, c'è sempre Wine, però nella mia esperienza Ubuntu o altre distribuzioni non hanno mai dato totale soddisfazione. Quando manca questo, quando non funziona quello, quando iOffice con Wine ma solo la versione vecchia eccetera, quando non ci puoi giocare, se ci puoi giocare a un framerate minore come pure con recente Steam Play. Senza contare la durata della batteria terribilmente ridotta sui miei notebook. La domanda è, cosa ci si guadagna, in parole povere, ad usare Linux? Come mai Windows non va bene? Perché più che altro attualmente la scelta di usare una distro Linux mi sembra legata più che altro all'ideologia open source che ad un fattore di comodità o qualità. Ebbene Giovanni, è una domanda più che giusta e legittima che mi sono posto anche io nel corso degli anni. E ora proverò a risponderti. È solo una mia opinione, ma Windows è un sistema operativo che durante gli aggiornamenti, che comunque vengono installati all'avvio o allo spegnimento, il momento più detestabile quando specialmente ho un portatile, comunque dicevo ha una fase di preparazione al download, poi c'è il download e così via. Ma cosa diavolo significa preparazione al download? Cioè sono abituato a navigare su internet, avere un browser, cliccare una cosa e parte un download. Non c'è una preparazione al download con un caricamento percentuale. Quindi che cosa fa? Mi piacerebbe tanto saperlo. Ma non c'è verso di avere informazioni veramente dettagliate su cosa accade sotto la scocca, oltre a quel poco che i software scrivono nel registro degli eventi di sistema. Ed il fatto che non sia open source di certo non aiuta. Alla fine ti trovi ad amministrare una macchina che, sì, va bene nella maggior parte dei casi, ma quando devi risolvere problemi, spesso non sai cosa stai veramente facendo. E certi problemi non sono così semplici come reinstallare un driver o ripristinare il sistema ad un'istanza precedente. Diciamo che non hai sempre piena coscienza di ciò che accade veramente. A volte hai solo una marea di tool e pulsantini da premere a caso su quelle interfacce per vedere che cosa succede e questo è un po' come voler riparare una macchina senza aprire il cofano. Non si lavora tanto bene a scatola chiusa, insomma. A proposito di riparare, non c'è la possibilità di sistemare programmi closed source scritti da altri, nemmeno con tutte le capacità e le competenze di questo mondo, purtroppo. Troppe volte mi sono trovato davanti a software con scelte di design sbagliate o bug tanto semplici quanto fastidiosi ma mai risolti e tutto senza la possibilità di intervenire. Un clamoroso esempio è proprio OneNote, sviluppato da Microsoft in due versioni, entrambe abbastanza stupide al punto di non poter disattivare opzioni non volute in una versione o introdurre funzionalità basilari nell'altra versione, ma pubblicherò sicuramente un video a riguardo. E questo è tutto quello che c'è riguardo all'ideologia, anche se lo definirei più un discorso funzionale, anzi direi proprio qualitativo visto che hai usato questa parola, perché non mi piace sedere scomodo e mangiare male così come non mi piace usare software che mi provoca delle frustrazioni che io non possa risolvere. Vedila così, magari Linux ha mille problemi, però sono tutti risolvibili, tempo e voglia permettendo. Dipende solo da quanto sei capace. Ma quando software l'ha scritto qualcun altro e non puoi metterci mano, beh, vedi tu. Tutte le altre buonissime ragioni che ho per usare Linux sono ancora più pratiche di quanto tu possa pensare. Credici o no, ma sul mio Surface Linux scalda notevolmente meno di Windows, che fra l'altro per qualche ragione usa sempre il 30% di CPU in idle da solo, per i cavoli suoi. Senza neanche fregarsene che magari sono sulla batteria e sto prendendo appunti in un'aula non cablata di università, e questo può essere un grosso problema, sia dal punto di vista del riscaldamento che dal punto di vista della durata proprio della batteria. Che comunque con Linux mi dura 5 ore sul Surface, sono più che tranquillo. Inoltre Linux è ovunque, anche nelle nostre tasche, per cui per chi lavora nel settore specialmente, ignorarle completamente l'esistenza è come attraversare la strada da bendati. Molto, molto pericoloso e poco professionale. Faccio computer science e lo studio dei calcolatori è a tutt'altro livello con un sistema operativo open source. E poi chiaramente Linux alla Bash. E non voglio sentire che Windows la sta integrando perché non sarà mai la stessa cosa. Bash vuol dire avere integrazione con il sistema operativo, oltre a poter processare stringhe, come sappiamo, tutte le varie utility GNU per il testo. Ci sono tante, tante cose che vengono comode. Automatizzare operazioni di sistema con la shell Bash è una cosa veramente, veramente utile, che porta davvero grandi miglioramenti alla produttività, risparmiandoti rotture da fare manualmente. Ma soprattutto, la ragione più importante, Linux è divertente. Ci sono almeno tre applicativi diversi per fare la stessa cosa. È un sistema fortemente modulare e intercambiabile, e questo lo noti subito da quando provi altri desktop environment. Ad esempio lo installi con GNOME, poi decidi che vuoi provare KDE, allora installi KDE, senza dover reinstallare il sistema operativo. È solo un pacchetto. Il desktop è un pacchetto intercambiabile. Sotto c'è un altro livello che magari è il server grafico. Puoi avere X11 o puoi avere Wayland che è più nuovo, stanno mettendo cose interessanti. Puoi avere un driver diverso per ogni periferica, oppure usare lo stesso che è multipurpose per alcune periferiche. Al di sotto c'è proprio il kernel che può cambiare di versione da un momento all'altro, a cui vengono aggiunti supporti a cose, tutto quanto. Cose che invece daresti per scontato in Windows, perché certo compri un dispositivo e funziona già per forza. E anche se non diresti che è un vantaggio, lo è per chi si annoia molto come me davanti a un computer che è sempre uguale. C'è sempre software fresco, non perfetto ma interessante, da sperimentare anche solo per rompere la solita routine. E dimenticavo, ogni volta che ho problemi, poi per risolverli devo imparare una marea di cose, sia su Linux che sull'informatica in generale. Quindi, penso che sia per tutti? No, assolutamente no. Ho smesso con questa utopia ormai da anni, non ci provo neanche più a installare Linux sul computer dei miei genitori, consigliarlo alla nonna, parenti, amici. E non mi sento di consigliare Linux a nessuno. Linux è sempre stato un posto per veri appassionati di sistemi operativi. E alla suddetta categoria non importa particolarmente di Wine e del software Windows o di non poter giocare ai videogiochi. Diciamo che ci soddisfiamo in altre maniere. Insomma, se mi cheat, Linux is fun. Questa è l'unica vera ragione per cui continuo a usarlo nonostante mi faccia davvero tanto arrabbiare, oltre al fatto che mi toglie le frustrazioni e mi dà una grande soddisfazione quando riesco a fare le cose. Cose che a volte sarebbero comunque al di fuori delle mie potenzialità se lavorassi con software proprietario. Credo che questa domanda ce la facciano in molti e sia di interesse comune, per cui spero di avervi risposto nella maniera più esaustiva possibile riguardo al mio punto di vista quantomeno e di non aver dimenticato niente. Se trovate almeno un briciolo di senso in ciò che ho detto fatemelo sapere nei commenti. Se non trovate neanche un briciolo di senso in ciò che ho detto fatemelo sapere nei commenti. E ci vediamo al prossimo video.